Pronto? Salve, sono Paolo e la chiamo dalla commissione che si occupa della riscossione dei biglietti del parcheggio non pagati. Chiamo per informarla che lei è in possesso di un biglietto del parcheggio scaduto dal 2012. Dunque, il costo complessivo del biglietto, compreso i interessi, è di 220 euro. Come intende pagare? Ma scusa, che biglietto? Io non ho nessun biglietto. Se non paga entro domani l'importo raddoppia 440 euro. Vuole che ciò accada? Senti, io non ho nessun biglietto e nessuno... Ecco cosa succede quando non si può parcheggiare bene. Da allora hai imparato a parcheggiare l'auto, eh? Parabra.